Allora, terzo tempo, semifinale di calcio a 5 archiviata, tanti gol anche da parte tua stasera? Sì. Sei divertito? Bella partita, comunque abbastanza combattuta. Bello. Sì, bello, ti è piaciuta la partita? Il migliore in campo? Sì. Chi è? Chi è il migliore in campo, l'arbitro? Il più forte, chi è so? Papà. Babbo, papà, c'è il tuo papà. Matteo, allora, una semifinale comunque l'avete conquistata sul campo, diciamo molto meritatamente, direi. Sì, sì, dai, abbastanza meritata e per fortuna eri c'è andata male, l'altro giorno c'è andata male e oggi c'è andata bella. Senti, voi avresti anche concesso un giocatore della seconda squadra? Certo, c'è nessun problema, ma altronde non siamo fenomeni, quindi va benissimo giù fra di noi, anche se viene un'altra squadra. Bene, bravo e complimenti su questo aspetto che a noi ci piace tanto. La partita comunque è abbastanza... Bella partita, meritatamente vinta da loro, noi eravamo contati in cinque. L'unica cosa, peccato che nonostante la sportività e il rispetto, c'è qualcuno che deve sempre dire la parola di troppo. Va bene, quello diciamo, Eslan poi, io penso poi magari quando arriviamo a questo qualcuno, secondo me, diciamo così, è preso un po' dalla foga, vero? Bella partita, sì, tranquilla soprattutto, è la prima volta che si giochono tutti loro in maniera tranquillita. Vuol dire che piano piano ci si conosce. Dopo sette volte in un campionato ho trovato tanto di loro e ho assaggiato in maniera tranquilla. Ecco, questo che poi è quello che conta, no? Sì, sì. Hai fatto delle eccellenti paratone, eh? Sì, sì, diciamo... E fu così che il portiere, diciamo, il vecchio portiere viene accantonato? Povero Alvin, non conosco, è bravo anche lui. Poi capitano giornate sì e giornate notte. Ok, è elevato, è vero, ha parato tantissimo. Ma noi di squadra non ce l'avamo, eravamo in cinque contratti, mancava tanta gente forte. Però già come portiere ha salvato la rete in un sacco di occasioni. Allora, quello che giocava, però per pezzo. Vabbè, ci sta anche quello, no? Uno scende in campo, vero. Posso un consiglio a Senora, i video, chiamali Respectus contro A, B, C, D, perché mi sa che i numeri sono finiti. No, pare che l'anno prossimo saranno quattro Respectus, quindi si vedrà. Pare, vediamo. Vediamo se piuttosto, se gioca Bonito comincia a esserci anche un folto numero di giocatori. Allora, Giovanni, sei dato da fare tanto, hai fatto un bellissimo gol, hai trovato anche un palo che meritava il gol. Non c'è tanta sfiga nei tiri, pali, traversa, che devo fare. Vabbè, a quelli che non contano, anche loro hanno preso un palo. Sì, c'è stato il portiere. Magari si va a segnare qualche gol in più stasera. C'è stato il portiere che ha salvato tanto. Perché sono stato cazziato pure dai miei per quelli sbagliati, non lo capisco. Sono inizio a cazziare. Il primo a cercare. Allora. Ora ci sono alla finale. Ora siamo già alla mentalità sulla finale. Ma, vengo per vincere, se non vengo nemmeno. Va bene, per vincere, diciamo, l'importanza. Vince chi si diverte di più, vero Alberto? Sì, vince chi si diverte di più. È stata una bella partita, tranquilla. C'è tanta correttezza in campo. Sì, 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 oggi ha fatto un partitone. Quando chi ti sostituisce già, sì, sei contento. Bene, e questo ci fa piacere. Sì, già la prossima settimana, sempre stesso campo, stesse squadre. Ok, appuntamento a tutto il pubblico. Bravi ragazzi e complimenti.